E bella ragazzi qui Xwilli e vi ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati con un video molto rapido Perché vi spiegherò come ottenere un milione di dollari su GTA Online Senza praticamente fare niente Quindi a gratis In realtà io già feci un video parecchio tempo fa in merito a questa situazione Su come ottenere dei bonus quindi soldi gratis su GTA Online eccetera eccetera Però insomma siccome la Rockstar per questa settimana ha riaperto questo evento Vi voglio un attimino giusto riavvisare sulla situazione Inoltre farvi prendere sto milione di dollari gratis Perché che lo lasci lì? Cioè non ho capito E quindi bene prima di cominciare io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like Per supportare al meglio il canale E inoltre mi raccomando condividete questo video e commentate su tutti i vostri social Ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video Se lo fate siete dei grandi Bene allora cosa bisogna fare per ottenere questo milione di dollari gratis Vi scriverò tutta la procedura qua sotto nella descrizione E nel primo commento che fisserò in alto Così potete farlo tranquillamente non è nulla di complicato Prima cosa che dovete fare molto importante è registrarvi ad Amazon Prime Tramite il link qua sotto nella descrizione E quindi andare ad attivare la prova gratuita su Amazon Prime Se ovviamente avete già un account di Amazon con l'abbonamento ad Amazon Prime Non c'è bisogno che facciate questo primo step Mentre per tutti quelli che non hanno Amazon Prime Appunto tramite il link qua sotto nella descrizione potrete attivare la prova gratuita Che dura 31 giorni Ovviamente dopo che avrete fatto tutto e dopo che i soldi vi saranno arrivati Potete tranquillamente disdire l'abbonamento ad Amazon Prime Comunque sì una volta che avrete attivato la prova gratuita di Amazon Prime Dovrete collegare il vostro account Amazon Prime a Twitch Quindi se non avete Twitch dovete farvi anche un account Twitch Ovviamente per far diventare il vostro account Twitch Twitch Prime Ovviamente nel mio caso non ci sta la scritta collega Amazon Prime perché l'ho già fatto in precedenza Però a voi comparirà un'enorme scritta con scritto appunto collega Amazon Prime E una volta che avrete effettuato il collegamento ad Amazon Prime dovete semplicemente cliccare nel terzo link che trovate qua sotto nella descrizione Che appunto è Twitch Prime per Rockstar Games Dovrete semplicemente cliccare su riscatta e una volta che avrete cliccato su riscatta Il Social Club in automatico vi riscatterà il bonus Quindi un milione di dollari, sconti esclusivi e una sala giochi Sì ragazzi vi regalano anche una sala giochi E dopodiché dovrete collegare il vostro account Twitch al vostro account Social Club E dopodiché collegare semplicemente la vostra piattaforma di gioco Quindi che sia l'account della Playstation o che sia l'account dell'Xbox Quindi ragazzi per questo video molto rapido è tutto È davvero una roba semplicissima Vi consiglio a tutti di farlo Avete una settimana di tempo dall'uscita di questo video Ma se state guardando questo video magari dopo che la settimana sarà già finita Quindi di conseguenza non potrete più accedere al bonus di un milione di dollari e sala giochi Vi consiglio comunque sia di collegare il vostro account Amazon Prime e tutto In modo tale da essere belli pronti per un eventuale sconto o robe di questo tipo Quindi ragazzi per questo video era tutto Io spero vi sia stato utile Spero vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel like per supportare al meglio il canale Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video Seguitemi su Instagram E quindi niente ci vediamo con un prossimo video Bella raga Ciao 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 Grazie per la visione!